Per la prima volta una donna alla conduzione delle finali di Miss Italia sarà Millie Carlucci la conduttrice dell'edizione di quest'anno. La Kermesse, che celebra i suoi 70 anni di vita, andrà in onda da Salso Maggiore Terme dal 12 al 15 settembre, in prima serata su Rai 1. Confermata inoltre la coppia Caterina Balivo-Biaggio-Izzo alla guida di Miss Italia nel mondo, con serata in onda da Jesolo, il 27 giugno, sempre su Rai 1. La presenza di Millie Carlucci a Miss Italia, ha detto Patrizia Mirigliani, è un bel regalo ai 70 anni del concorso, perché è un nome di prestigio di Rai 1, con il quale si apre un nuovo ciclo tutto al femminile che ci incuriosisce. Millie è una conduttrice brava, popolare e rigorosa, dunque in linea con il concorso. Noi siamo pronti, conclude Patrizia, con tante iniziative e novità, dall'elezione di una Miss in ogni capoluogo di regione, e che porteremo direttamente a Salso Maggiore in prefinale, all'uso del web e delle nuove tecnologie. Grazie per la visione!